Salve a tutti, sono Silvia, sono qui dalla dottoressa Traburco, è il mio secondo trattamento che faccio e sono venuta perché avevo problemi di refusso con anche gastrite e sono venuta ma non ero molto convinta della cosa perché comunque si erano due anni che giravo tra medici, visite varie per riuscire a capire prima di tutto che cosa fosse la mia problematica, se era una problematica di cuore, cardiaca oppure se era altro perché il più principale fastidio che ho avuto era legato agli attacchi di tachicardia e extra sistoli. Poi alla fine sono venuta qui dalla dottoressa perché mi è stato denosticato il reflusso e ho iniziato a fare la terapia che lei propone e consiglia. Facendo gli esercizi, seguendo poi anche una terapia data dal dottor Crucitti, devo dire che dopo due settimane ho dato dei notevoli miglioramenti, la tachicardia non le ho più, avevo anche poi un nodo tipo ingola che non avverto più, le extra sistoli non le ho più avute e inoltre mi sento più in forma e anche un po' più energica. Avevo anche attacchi di ansia, cosa che invece sto riuscendo a gestire meglio e quindi nel complesso diciamo che sto notando dei buoni risultati. Posso anche mangiare un po' di quantità maggiore rispetto a quelli di cibo quasi al pranzo e a cena che mangiavo prima di venire qui e vedo che non ho fastidi. Inoltre la notte per dormire non uso più due cuscini come prima per riuscire a dormire bene perché avevo fastidi se non avevo due cuscini sotto alla testa dovuti sempre al reflusso quindi da una settimana buona che ho tolto il secondo cuscino e quindi anche questo mi sembra un ottimo risultato. E tutto questo poi nel giro, come ripeto, di una settimana quindi ho notato questi risultati proprio subito e questo mi ha meravigliato e quindi penso che sia soprattutto l'impegno che uno ci mette nel seguire tutta la terapia in tutte le sue parti perché è formata da diverse parti quindi penso che sia quello comunque l'impegno l'impegno che dà subito dei risultati immediati. Ho capito che solo con l'impegno e con la forza di volontà nel fare quello che ci viene detto possiamo guarire possiamo trovare veramente beneficio. Questo è quello che sento di dirvi è la mia testimonianza e ciao a tutti!